Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TV giornale di Telestense. La cronaca in apertura con un'altra persona investita in città. È successo ieri pomeriggio verso le 17.30 in corso Portamare. È stata investita una donna di 78 anni mentre si recava a gettare i rifiuti. Era appena uscita di casa. La donna stava attraversando la strada, non sulle strisce, proprio per andare a gettare la spazzatura. Quando una Fiat Multipla condotto da un 72enne che dalla farmacia comunale stava andando in direzione centro l'ha colpita in piedi. La donna portata all'ospedale di Cona ha riportato un grave trauma cranico ma non è in pericolo di vita. E c'è la cronaca giudiziaria perché dopo 15 anni per il crack Coppocostruttori è arrivata una nuova sentenza, un appello bis, ovvero un processo che è stato rifatto dopo quanto richiesto dalla Corte di Cassazione. Stiamo parlando appunto dei vertici di Coppocostruttori. Ieri è arrivata una sentenza bis, una nuova sentenza che ha segnato una raffica di assoluzioni. Rimane invece il reato che riguarda l'affare Spallo. Ovviamente c'è rassegnazione rammarico da parte dei soci della cooperativa caduti nel crack, ma vediamo i particolari nel servizio. Assolti perché il fatto non costituisce reato, non solo i giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Bologna hanno respinto anche l'azione risarcitoria che avevano chiesto le parti civili contro le società di revisione. Dopo 15 anni il processo sul crack di Coppocostruttori arriva ad una svolta. Chi fece un buco da un milione di euro per il fallimento della cooperativa di Argenta, secondo la giustizia italiana, non voleva ingannare e per questo non deve essere condannato. Così, patron Giovanni Donigaglia e tutti gli altri 18 imputati a vario titolo sono stati assolti dall'accusa di bancarotta documentale. Per il Presidente di Corte Stefano Valenti dunque, l'appello bis di fatto conferma quanto sentenziato con il primo appello. Per la Corte invece Donigaglia e gli altri sono colpevoli di distrazione e dissipazione per quanto riguarda l'affare SPAL. Il collegio giudicante, che oggi si è espresso con una sentenza, riconosce inoltre alle parti civili la provvigionale, ovvero un piccolo risarcimento. Una sentenza che lascia la mare in bocca ai soci del Carspac 2, cioè di tutti quei risparmiatori che dopo aver perso i soldi investiti nella ex Coppa di Argenta, hanno deciso dal 2008 di intraprendere le vie legali per vedersi restituire quanto perso con il crack. Da allora la maggior parte dei soci caduti nel crack ha ottenuto risarcimento del 30% dei soldi investiti. Non c'è giustizia in Italia, commenta con rammarico il portavoce del Carspac 2, Giovanni Bigoni. Hanno creato un buco economico immenso e dopo dieci anni tutti questi vengono assolti perché a loro non viene riconosciuta la colpa di aver fatto mali conti. A questo, aggiunge Bigoni, si somme il fatto che a Donigaglia il suo vice, Ricci Maccarini, è stata ridotta anche la pena. Ci rimane una magrissima consolazione, la provvigionale, chiosa ancora Bigoni. Ora, per i soci Carspac 2 c'è un'altra flebile speranza, la decisione del Tribunale Civile di Milano, se riconoscere o meno ai soci. un risarcimento. E cambiamo decisamente argomento in occasione della recente 104esima giornata mondiale del migrante e rifugiato indetto dalla Chiesa sul tema accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati. Nel nostro Paese si contano oltre 250 milioni di migranti, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Una parte di questi approda anche sulle coste italiane, arrivando fino a Ferrara. Ora non si parla più di emergenza, ma di gestione dell'accoglienza, che resta un'attività importante su tutto il territorio. L'Asp, l'azienda per i servizi alla persona di Ferrara, ha messo infatti un nuovo bando per la gestione dell'accoglienza e l'integrazione di circa 1.150 richiedenti asilo, quelli che oggi sono presenti in provincia. I fondi a disposizione sono circa 14,5 milioni e mezzo di euro. Scadrà il 15 febbraio 2018 il nuovo bando pubblicato dall'Asp di Ferrara per il servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale. Un bando che prevede l'accoglienza abitativa, abitazioni civili e strutture comunitarie dedicate all'accoglienza per adulti, ma anche alberghi, agriturismi, residenze e vacanza, per i circa 1.150 migranti oggi presenti sul territorio provinciale. Prevede anche il trasporto, la mediazione culturale e linguistica e percorsi di formazione e inclusione lavorativa. Il periodo di affidamento del servizio è di nove mesi, prorogabile di altri tre, dal 1 aprile al 31 dicembre 2018. Dovranno ripresentare la domanda, sempre se ancora in possesso dei requisiti, anche le strutture, gli enti o i privati, che l'anno scorso hanno avuto accesso al bando e già fanno parte della rete di accoglienza. L'importo totale del bando è quasi identico a quello del 2017. Si tratta di poco più di 14,5 milioni di euro, così suddivisi quasi 10 milioni per le abitazioni e le strutture dedicate all'accoglienza adulti, poco più di un milione di euro per alberghi, agriturismi, residenze e vacanze, 24.300 euro per il trasporto, quasi 6.000 euro per la mediazione culturale e linguistica e circa 68.000 euro per la formazione e l'inclusione lavoro. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti previsti dall'articolo 45 e 48 del decreto legislativo 50 del 2016, sulla base di requisiti specifici indicati nella documentazione di gara. La procedura aperta sarà giudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche rispetto alla qualità del servizio offerto. Per tutte le modalità di partecipazione si può consultare il sito dell'ASP all'indirizzo www.aspfe.it nella sezione gare e concorsi oppure rivolgendosi direttamente all'ASP di Ferrara in via Ripagrande 5. C'è una notizia che riguarda un convegno che si terrà sulle banche a 100 venerdì 19 gennaio alle 15 nel Salone di rappresentanza della Casa di Risparmio di 100. Il futuro delle banche in Italia e in Europa, la lezione di Raffaele Mattioli, è il tema del seminario che vedrà i saluti di Alberto Roncrata, il presidente della Casa di Risparmio di 100, del sindaco di 100, Fabrizio Toselli, e anche di una giornalista centese che è Fulvia Sisti. Fra i relatori di questa giornata dedicata alle banche c'è anche il presidente di ABI, Antonio Patuelli, il figlio di Raffaele Mattioli, Maurizio Mattioli, il direttore della Casa di Risparmio di 100, Ivan D'Ammiano, e anche quello del gruppo Unipol Pierluigi Stefanini. Modere al dibattito, il capo redattore del TGR Emilia Romagna della RAI, Antonio Farnè. Ci saranno 20 giorni di tempo per effettuare le iscrizioni online per le classi prime elementari, medie e superiori. Le domande si potranno inoltrare a partire da oggi dalle 8 sul portale www.iscrizioni.istruzione.it, tutto online anche per i nidi materne comunali. La procedura sarà attiva dalla prima settimana di febbraio. Sentiamo. Ci sarà tempo dalle 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura online per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria, secondaria, di primo e secondo grado, solo dopo essersi registrati sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Le iscrizioni si faranno dunque solo online. I genitori potranno iscrivere alla prima classe della scuola elementare le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018, ma anche, come anticipatari, quelli che li compiranno entro il 30 aprile del 2019. Al momento della compilazione delle domande online, si potrà indicare, oltre alla prima scelta, fino ad un massimo di altre due scuole. Online anche le iscrizioni per la secondaria di primo e secondo livello. Nella domanda per le scuole medie, i genitori dovranno esprimere anche le proprie opzioni rispetto all'orario settimanale o su un'eventuale scelta dell'indirizzo musicale. Nella domanda di iscrizione online alla prima classe di una scuola superiore, i genitori dovranno esprimere la scelta dell'indirizzo di studio e si potranno indicare, oltre alla prima scelta, altre due scuole di proprio gradimento. Novità dell'anno scolastico 2018-2019, la possibilità di scegliere anche uno dei 100 percorsi sperimentali attivati in altre tante classi prime di licei e istituti tecnici per la conclusione del percorso di studi in quattro anni. Le iscrizioni online riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionali regionali. Per quanto riguarda invece il servizio di prescuola, delle elementari gestito dal comune, così come la rifezione scolastica, le iscrizioni si potranno effettuare sul sito dell'istituzione, servizi educativi e scolastici del comune di Ferrara a partire dal prossimo mese di maggio. Infine, per le scuole dell'infanzia, quelle statali, la procedura è cartacea, mentre per le strutture gestite dal comune di Ferrara, nidi e materne, le iscrizioni dovranno essere effettuate online a partire dalla prima settimana di febbraio. Allora, dopo la pausa natalizia si sono raperti i lavori anche in Consiglio Comunale che ieri ha esordito con un concerto lirico degli studenti del Conservatorio e poi dalla musica si è passati a parlare delle calotte dei rifiuti. Sentiamo. Un concerto degli allievi del Conservatorio, Girolamo Frescobaldi di Ferrara, ha inaugurato i lavori del Consiglio Comunale nella prima seduta del 2018. Il concerto di apertura, ormai una tradizione da diversi anni, nel 2018 ha proposto un repertorio lirico che ha visto coinvolti gli studenti delle classi di canto delle docenti Agata Binkowska e Cinzia Forte. Rigoletto, Romeo Giulietta, La Bohème, Il Trovatore, Macbeth e La Traviata sono alcune delle opere del repertorio in programma che ha presentato musiche dei maggiori autori del melodrama italiano e non solo. Dopo il concerto si apre il dibattito. All'ordine del giorno due emozioni presentate da Francesco Rendine di Gol contro il sistema delle calotte per la gestione della raccolta rifiuti. Basta guardare e passare per le vie della città per rendersi conto che evidentemente ci sono tante cose che non vanno in questo nuovo sistema di raccolta. Inizierà il dibattito a fine gennaio in Consiglio Comunale sul nuovo regolamento per la tariffa Tari. Anche in quell'occasione sicuramente ribadiremo che è necessario porre in essere dei correttivi perché evidentemente così com'è il sistema non funziona. Secondo me non è stato tenuto conto prima dell'implementazione di questa tecnologia non è stato tenuto conto le problematiche che riguardano un po' tutte quelle categorie che per questione di attività lavorativa e di gestione della propria quotidianità producono pattume in quantità abbastanza importante che è ben diversa dalla quantità che produce normalmente una famiglia. Ma all'assessore Ferri replica il sistema sta funzionando ci sono degli aspetti tecnici da mettere a punto. Sta andando molto bene dal punto di vista dei risultati attesi. Abbiamo alla fine dell'anno scorso raggiunto già l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata. Indubbiamente rimangono dei problemi di gestione quindi vediamo tutti che sono cresciuti i rifiuti abbandonati. Sono questioni più tecniche di gestione che nelle prossime settimane dovranno trovare una risposta adeguata. Il clima delle ultime settimane ha portato in pianura padana lo smog e lo sforamento del livello delle polveri sottili è stato piuttosto frequente e così abbiamo sentito anche il parere di un tecnico dell'Agenzia regionale per l'ambiente ARPAE. Dopo le critiche per la cancellazione della prima ecodomenica dell'anno lo scorso 7 gennaio causa saldi ieri le limitazioni al traffico si sono invece state le polveri sottili a Bologna si sono fermate alla soglia del limite 42 microgrammi per metro cubo. E così dopo le difficoltà del 2017 quando gli sforamenti del valore massimo di PM10 si sono verificati per più di 35 giorni il limite massimo stabilito dalla legge inoltre la metà delle centraline usate per il monitoraggio il 2018 sembra essere iniziato con dati meno allarmanti. Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino in questi primi giorni del 2018 andiamo un po' meglio c'è stato più vento, più pioggia e quindi adesso le concentrazioni sono su valori medi, comunque inferiore ai limiti in generale e nei prossimi giorni scenderanno quindi diciamo fino al fine settimana dovremmo stare bene poi dopo si vedrà. Sempre ieri intanto è partita la più grande campagna di monitoraggio Fai da te con 310 sensori, misuratori dell'inquinamento distribuiti a Bologna e nei comuni limitrofi ai cittadini e alle associazioni che ne hanno fatto richiesta nell'ambito dell'iniziativa denominata Aria Pesa si tratta di un kit che andrà posizionato dal 28 gennaio al 25 febbraio sul balcone, fuori dalla finestra o comunque a una distanza dal suolo non inferiore a 3 metri una volta terminata la rilevazione i sensori verranno inviati a un laboratorio inglese che effettuerà le analisi Ragazzini che danno fuoco a un clochard lo uccidono a Zevio un paese a pochi chilometri da Ferrara che si trova in provincia di Verona due adolescenti che nel giro di poche settimane a Napoli vengono pestati a sangue da una baby gang un escalation di violenza che preoccupa non poco tanto che il ministro degli interni Minniti ha deciso di organizzare un vertice d'urgenza a Napoli per capire l'entità del fenomeno e prendere dei provvedimenti a Zevio il 13 dicembre scorso due adolescenti di 13 e 17 anni figli di immigrati hanno deciso di appiccare il fuoco all'auto di un clochard, un marocchino di 64 anni che dal 1990 viveva in Italia e che da alcuni anni aveva perso il lavoro e poi i fatti di Napoli con le baby gang che hanno deciso di ferire gravemente un adolescente poco prima di Natale oggi per fortuna rientrato a scuola venerdì scorso invece un quindicenne aggredito e pestato di botte nella stazione della metro di Napoli Nord e poi finito in ospedale con la milza spappolata il quindicenne è tornato a casa da solo e qui lo zio lo ha accompagnato poi d'urgenza all'ospedale dove gli è stata asportata la milza ora la madre di questo adolescente chiede giustizia ma soprattutto non si capacita dell'indifferenza della gente che ha assistito al pestaggio del figlio senza intervenire ora la stessa mamma vuole creare una rete di solidarietà affinché simili episodi non si ripetano mai più parliamo di arte perché da domenica 14 gennaio al museo Maggi di Pieve di Cento è stata inaugurata la mostra Ghernica icona di pace dedicata al cartone raffigurante la sua opera capolavoro realizzata da Pablo Picasso ed esposta al museo di Madrid Regina Sofia e da cui è nato anche la razza esposto all'ingresso della sala del consiglio di sicurezza dell'ONU l'idea espositiva che rimarrà aperta al pubblico fino al 28 di febbraio è partita da una lunga ricerca fatta dalla storica dell'arte Serena Baccaglini che nel corso dei suoi studi dedicati a Picasso scoperto un'eccezionale amicizia e collaborazione a tre tra lo stesso artista spagnolo il mecenate Nelson Rockefeller e l'artista Jacqueline de la Bomme du Roulbac che ricreò e realizzò la razza di Ghernica Allora parliamo di donazione del sangue e dunque di Avis perché sono già una decina i musulmani ferraresi che dopo l'incontro con l'Avis comunale di Ferrara avvenuto in questi giorni nelle moschee della città hanno prenotato una visita per poter donare il sangue un progetto quello siglato con la comunità musulmana ferrarese che l'associazione di Corso Giovec intende portare avanti con l'obiettivo di diffondere la cultura del dono del sangue una bella risposta che fa ben sperare ha spiegato Sergio Mazzini il presidente di Avis comunale Ferrara che ha già sottolineato che l'associazione dopo ortodossi musulmani proseguirà con l'intento di coinvolgere anche le comunità religiose della provincia di Ferrara con lo scopo di aumentare il numero di nuovi donatori proprio in questi giorni a livello provinciale si registra per esempio carenze per due gruppi di sangue lo zero positivo e la positivo una risposta all'appello lanciato dall'Avis a livello nazionale molti donatori infatti per raggiunti limiti di età non potranno più donare il sangue per questo servono nuovi donatori che l'associazione intende coinvolgere e sensibilizzare con progetti di conoscenza verso la cultura del dono progetti appunto come quello realizzato nelle moschee di Ferrara ed ora parliamo di elezioni politiche quelle che si terranno il 4 di marzo anche la nostra emittente aderito al disciplinare per la messa in onda dei messaggi autogestiti che riguardano le elezioni della Camera dei deputati e dei senatori e per questo a norma di legge trasmettiamo i seguenti annunci avviso preventivo per la trasmissione di messaggi elettorali gratuiti questa emittente intende offrire ai soggetti politici interessati l'opportunità di diffondere propri messaggi autogestiti gratuiti in occasione delle prossime elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica elezioni indette entrambe per il giorno 4 marzo 2018 tale programmazione sarà effettuata in appositi contenitori di messaggi elettorali nei limiti e con le modalità previste dall'autorità garante e dalle leggi vigenti saranno accettati solo filmati da 1 a 3 minuti in standard tecnici digitali compatibili con la nostra tecnologia di diffusione inoltre dei messaggi politici gratuiti potrà essere effettuato presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara via Virginia Woolf 17 fino alle ore 12 di mercoledì 28 febbraio prossimo venturo l'effettiva programmazione avrà corso entro massimo 48 ore dalla consegna dei filmati per avere termine massimo alle ore 24 di venerdì 2 marzo prossimo venturo la rotazione dei messaggi e l'ordine di messa in onda saranno basati sul sorteggio effettuato dal Corecom si informano pertanto i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara telefono 0532 9089 fax 0532 61868 è disponibile il relativo regolamento il responsabile del servizio è l'ingegner Cesare Artioli avviso preventivo per la trasmissione di messaggi elettorali a pagamento questa emittente intende offrire ai soggetti politici interessati l'opportunità di diffondere propri messaggi autogestiti a pagamento in occasione delle prossime elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica elezioni indette entrambe per il giorno 4 marzo 2018 tale programmazione sarà effettuata in appositi contenitori di messaggi elettorali nei limiti e con le modalità previste dall'autorità garante e dalle leggi vigenti saranno accettati solo filmati in standard tecnici digitali compatibili con la nostra tecnologia di diffusione l'inoltro dei messaggi politici a pagamento potrà essere effettuato presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara via Virginia Wolf 17 fino alle ore 12 di mercoledì 28 febbraio prossimo venturo l'effettiva programmazione avrà corso entro massimo 48 ore dalla consegna dei filmati per avere termine massimo alle ore 24 di venerdì 2 marzo prossimo venturo la rotazione dei messaggi e l'ordine di messa in onda saranno basati sull'ordine cronologico di prenotazione degli stessi si informano pertanto i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara telefono 0532 9089 fax 0532 61 868 è disponibile il relativo regolamento e il responsabile del servizio è l'ingegner Cesare Artioli noi ci fermiamo qui le nostre informazioni anche sul portale di Telestense www.telestense.it buon pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.